Onorevole Moretti, prego Alessandra, due minuti e trenta. La pandemia del coronavirus è una tragedia umana di proporzioni potenzialmente bibliche. Dopo molti anni di pace, progresso, benessere sociale, l'Europa sta vivendo un fenomeno nuovo, pericoloso, con conseguenze drammatiche. Il coronavirus non conosce confini, né classi sociali. La pandemia colpisce miseria e nobiltà, allo stesso modo, e nessuno ne uscirà più forte degli altri, nessuno si salverà da solo. Siamo in guerra, e una guerra richiede una mobilitazione collettiva, ed è per questo che appare oggi urgente riformare l'Europa per farla diventare davvero Stati Uniti d'Europa, secondo il disegno dei padri fondatori. Non possiamo più tollerare l'egoismo di alcuni. Da questa crisi ne usciremo solo se uniti e solidali, e se l'Europa sarà regista delle strategie da adottare. L'Italia è stato il primo paese europeo ad affrontare l'emergenza, e so che potete capire la mia emozione di parlare oggi in quest'Aula. Parlare con orgoglio del mio paese, che è diventato, suo malgrado, un modello per tutti gli altri Stati. Lo dico con impresso nel cuore e nella mente il numero dei morti che ogni giorno cresce. E allora non possiamo non ringraziare medici, infermieri, operatori sanitari, forze dell'ordine e tutti i lavoratori delle filiere dei beni essenziali che continuano a recarsi al lavoro, gli autotrasportatori che provvedono alla consegna delle merci tra mille difficoltà ed ostacoli. Questo maledetto virus ha evidenziato in tutta la sua forza la fragilità di un'Europa dei nazionalismi, dove tutti i governi, chi più chi meno, negli ultimi quarant'anni, hanno tagliato risorse ai settori strategici come la ricerca, la sanità, non sapendo oggi garantire la sicurezza dei medici in corsia, un'Europa che non ha saputo realizzare un consorzio sulla ricerca sui vaccini. Allora è adesso che dobbiamo fare tesoro degli errori compiuti. Mario Draghi, un grande italiano, un grande europeo, non a caso, ieri, alla vigilia di questa giornata così importante, ha ammonito gli stati europei con queste parole. In questa crisi è necessario un cambio di mentalità, come i tempi di guerra. Lo shock che stiamo affrontando non è ciclico. La perdita di reddito non è colpa di nessuno di coloro che ne soffre. Il costo dell'esitazione può essere irreversibile. Non esitate stati, ci dice Draghi, perché una crisi eccezionale richiede misure eccezionali e immediate. Tante risorse e tanta liquidità da mobilitare evitando ritardi burocratici. Perché è nostro dovere politico e morale salvare le imprese, il lavoro, le famiglie. Questa deve essere la nostra ossessione, colleghi. Non siate pavidi, non siate modesti governi nazionali, perché così facendo cadrete nel tranello dei sovranisti che vogliono un'Europa debole, impaurita e non all'altezza di una sfida globale. Concludo dicendo che questo è il tempo del coraggio, non della timidezza e dell'ipocrisia. Per tutti i governi nazionali, per maggioranze e opposizioni, tutti, nessuno escluso. Grazie.